Siamo qui per aiutare a costruire un futuro migliore per gli abruzzesi e gli abruzzesi, ha detto la segretaria del Partito Democratico. E nessuno può farlo meglio di Luciano D'Amico, che per tanti anni ha guidato una fabbrica di futuro, qual è l'Università di Teramo, che ha costruito tante opportunità per i giovani di questo territorio. La segretaria nazionale del PD Schlein è giunta ieri in Abruzzo, percorrendo tappe della provincia di Chieti, con il finale a Francavilla e l'intervista in diretta e in esclusiva su Reteotto, realizzata dal direttore Carmine Perantuono. Nell'intervista sono stati discussi vari punti. D'Amico è l'unico candidato migliore che la regione Abruzzo possa avere, senza essere una colonia di Roma. La situazione riguardante la sanità, ma anche la scuola, come rischia di evolversi nel caso passi il progetto di autonomia differenziata per una regione d'Abruzzo, che è un po' la cerniera, che è la prima del meridione e la più meridionale del nord. Ma sarebbe un disastro perché vorrebbe dire lasciare ancora più indietro le regioni che fanno più fatica. Questa è una riforma di autonomia differenziata che vuole spaccare il paese. Non hanno neanche avuto, almeno, l'accortezza di nasconderlo, perché non hanno messo un euro su questa riforma. Vuol dire che a loro le diseguaglianze territoriali che colpiscono il sud di questo paese stanno bene così, anzi, le vogliono portare avanti. Che segnale può dare questo turno elettorale in Abruzzo alla politica nazionale? Qui è stato creato un campo molto largo attorno ad una figura di riferimento per una coalizione che va oltre anche il centro-sinistra. Ma qui abbiamo creato una coalizione che mette insieme tutte le forze politiche alternative alla destra, ma soprattutto anche quelle civiche, quelle radicate in questo territorio, che amano questa terra. Finalmente si può avere un presidente abruzzese per gli abruzzesi e con gli abruzzesi. Io dico sempre, qui la differenza non la facciamo noi che veniamo da fuori. La fanno le persone che vogliono riappropriarsi del proprio futuro. E dopo cinque anni in cui c'è stato un presidente mandato da Roma, calato dall'alto e che prende ordini di partito, non abbiamo sentito questo presidente alzare la voce né contro l'autonomia differenziata, né contro il dimensionamento delle scuole, delle aree interne e dell'Abruzzo, né l'abbiamo sentito protestare quando all'Abruzzo sono stati tagliati importanti fondi sul PNRR. Ricorderete la Roma-Pescara. Oggi qualcuno mi chiedeva per strada, ma com'è possibile che ci si metta di più ad andare da Roma-Pescara che ad andare da Milano a Roma? Ecco, anche sulle infrastrutture serve un salto di qualità. E si sono sbrigati solo adesso in campagna elettorale a tirare fuori qualche accordo farlocco. Ma la verità è che in questi cinque anni di presidente Marsiglio non abbiamo visto il presidente Marsiglio fare una battaglia per gli abruzzesi senza anteporre invece gli interessi di partito. Grazie a tutti.